e questi sono i centinaia di funghi porcini da pino in calabrese si chiamano vavusi che ho trovato oggi invece i porcini quelli sono già in congelatore li mangeremo più avanti guardate che meraviglia solo oggi nei boschi del lago la cina nelle serre calabre un saluto a tutti da ggj grazie